Nuovo a fondo di Andrea Pellicini sulle condizioni dei treni dei pendolari, in questo caso il convoglio in partenza da Luino alle 6.19 con destinazione Milano. Oltre ad essere obsoleto, come lo era fino a poco tempo fa quello delle 7.20, quando attraversa le gallerie tra Castelveccan e l'Aveno Monbello e tra l'Aveno e Besozzo, completamente buio, non è provvisto di illuminazione nei vagoni, con la conseguenza, dice Pellicini, che si viaggia al buio, dentro e fuori. Risultato? Viaggiatori in ansia e mancanza di sicurezza. Di qui la nuova richiesta a Trenord affinché sostituisca anche questo treno per ragioni di decoro e di sicurezza.